Una tragedia che ha scosso l'intera provincia, tre persone morte nello scontro fra una moto e uno scooter a Capannori. Un dramma che arriva da appena una settimana dalla scomparsa di un altro ragazzo di 30 anni, Pierluigi Meniconi, che ha perso la vita in moto sulla statale del Brenner a San Giuliano. Dopo una pausa durata il tempo del lockdown, le nostre strade tornano purtroppo a coprirsi di sangue e la comunità torna a interrogarsi sulla pericolosità di alcuni incroci, ma soprattutto si mette nuovamente alla ricerca di risposte che non esistono. Non ci sono motivi per spiegare il perché, perché il destino si accanisca così sulla gioventù. Non ci sono parole per confortare l'immenso dolore di chi soffre per queste vite spezzate, per i familiari, per gli amici, incidenti che ci riportano alla realtà di una vita costretta a fare i conti con un destino crudele.